La provincia di Roma lancia SOS Animali per combattere il fenomeno dell'abbandono degli animali che nel periodo estivo rischia di diventare una vera emergenza. Telefonando al numero unico 06 811 00 1256, i cittadini potranno chiedere informazioni e consigli sui loro animali oppure segnalare violenze o abbandoni, come dice Carlo Bettio di Inet, che ha collaborato al progetto. Si tratta di un numero di telefono disponibile per tutti i cittadini della provincia di Roma per dare informazioni sul corretto mantenimento di un animale domestico nel caso di segnalazioni di ritrovamenti di animali smarriti, anche di animali salvatici. Gli obiettivi dell'iniziativa, che durerà 4 mesi in via sperimentale, vengono sottolineati dal presidente della provincia, Nicola Zingaretti. Parte l'estate perché è il momento nel quale di più si avverte il bisogno di avere un punto di riferimento su questi temi. Ovviamente non risolve il problema enorme dell'essere vicino, del combattere questa pessima abitudine di abbandonare gli animali dell'estate, però almeno è una reazione. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.